Musica Andiamo a vedere una performance dedicata al Peshach Sira d'Indonesiano è una delle culture guerriere più ricche e varie dell'intero panorama delle arti marziali è nello stesso tempo una disciplina basata sull'abilità fisica un sistema di combattimento, una forma d'arte e un esercizio spirituale in questa esercizione vedremo una breve panoramica dello stile giapponese Keluarga Peshach Silat Nusantara con alcuni degli allievi dell'Accademia Arcipelago fondata dal grande maestro indonesiano Dewan Guru Om Mariono spero di averlo pronunciato bene assieme al suo allievo italiano a trovare il caposcuola Mastelitz Brechevaz vi darò poi tutti i riferimenti dell'Accademia adesso andiamo a vedere questa bella performance dedicata a questa disciplina indonesiana un bell'applauso l'Accademia Arcipelago Peshach Silat Italia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.